Qual è il problema? Ci chiederanno da dove è partita la ricerca, in quale ambiente, analizzando quali soggetti. Giussi ha scoperto i generi responsabili del Morbo di Askel, studiando gli abitanti del paese in cui era nato, Borgo Novo. Noi non siamo obbligati a citare le nostre fonti. No, ma qualcuno potrebbe arrivarci lo stesso. E quindi provare i documenti alla mano che la ricerca è stata condotta da Giussi e non da noi. E se quei documenti non ci fossero più? Nessuno potrebbe provare un bel niente. Allora potremmo sostenere che la ricerca è nata con noi. Questo è il compito suo. Al resto ci penso io, grazie. Può andare, dottore Saggierde. Hai capito, Scovici? Subito.